Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica, quando l'anticiclone interesserà gran parte dell'Europa centro-occidentale. Non notiamo infatti perturbazioni che rimarranno molto più ad ovest, a largo del Portogallo e delle isole britanniche. Nel dettaglio, le nostre regioni ce li serenia un po' comorosi dappertutto, solo in giornata un po' di variabilità in aumento al sud, per correnti umide e fredde ancora in quota da est-nord-est dei Balcani. La mappa delle precipitazioni ci mostra una giornata con assenza di piogge o nevicate, anche se qualche localizzato piovasco non lo escludiamo all'estremo sud. In sintesi, la mappa dell'Italia, appunto, una giornata di alta pressione, di cieli sereni o poco comorosi al centro-nord, aumenta la variabilità all'estremo sud con sporadici fenomeni più probabili sull'appennino medionale. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo.